Temperature miti a primavera, estate belle e parzialmente interrotta da piovaschi, autunno, con poche piogge e un inverno che comincerà a farsi sentire con giornate più rigide, gelate e probabilmente anche con la neve. Come di consuetudine il 25 gennaio è arrivato l'atteso responso del barometro delle cipolle di Urbania. Anche quest'anno infatti Emanuela Forlini ha ripetuto la tradizione che risale al Medioevo e che è ereditato dal padre Anselmo nel 1994. L'insegnante di scuola elementare, che ormai è arrivata al ventesimo anno di previsione, ha ritirato ieri all'alba i famosi 12 spicchi di cipolla, cosparsi con un pizzico di sale noiodato ed esposti su un tagliere nel davanzale rivolto ad Oriente. Il rito è iniziato nella notte tra il 24 e il 25 gennaio, quello in cui si dice che fosse avvenuta la conversione di San Paolo. Ma per un lavoro accurato non è sufficiente solo la lettura delle cipolle, dopo che l'umidità ha fatto sciogliere il sale fino, ma è necessario aver seguito e registrato le condizioni climatiche dei primi 24 giorni. Questi, chiamati giorni contarecci, prevedono che il 2015 sarà un anno con temperature un po' sopra le medie stagionali e con precipitazioni meno abbondanti degli anni scorsi. Secondo i pronostici delle cipolle, per i mesi dell'anno nuovo si avranno, a volte, alternanze climatiche e aspetti di relativa instabilità. Ma ecco il risponso mese per mese. Gennaio, il mese aperto il 2015 con temperaturi miti, salvo gli ultimi giorni che segnaleranno il ritorno dell'inverno. Febbraio, mese dai giorni freddi, gelo e precipitazioni anche nevose. Marzo, invece, sarà variabile con le alternanze tipiche del mese, specie nell'ultima quindicina. Aprile, invece, prevalenza di belle giornate primaverili. Maggio, bel tempo. Giugno, buono inizio dell'estate, soltanto marginali presenze di piogge. Luglio, variabile nell'ultima parte del mese con piovaschi, ma quasi sempre bello. Agosto, caldo e bel tempo, con qualche eccesso di umidità. Settembre, invece, sarà variabile e tendente al bello. Ottobre, modeste piogge e qualche instabilità. Novembre, variabile, specie nella prima parte del mese. Dicembre, infine, giornate serene con temperature fredde e gelate. Insomma, dopo un 2014 in cui la previsione è stata sbagliata, quest'anno si spera che il barometro di Urbania possa essere il più veritiero possibile. . Questa è una tradizione.